Tanta letteratura ma spazio anche ad arte, storia, sport, spettacoli e fumetti. Ieri si è alzato il sipario sull'Areobook, il nuovo festival letterario del Corriere di Como e di Espansione TV, in programma nell'auditorium di Via Santabondio 4 a Como. A dare il via all'evento è stata Mariana Trevisan, volto noto televisivo, che ha presentato il suo romanzo La Donna a Bonsai. Personaggi femminili, ritratti come bonsai, scatolati, che poi però riescono a liberarsi dalla gabbia. Viaggio nella memoria con Mattia Conti, trentenne, vincitore nel 2011 del premio Campiello Giovani, che questa sera ha riacceso i riflettori sul caso San Martino di Como, con il suo romanzo di sangue e di ghiaccio ambientato nell'ex ospedale psichiatrico. La settimana è ricca di eventi e incontri, tutti all'insegna della cultura. Domani 9 maggio sarà la volta di Paolo Di Stefano, autorevole firma del Corriere della Sera, che presenterà il suo romanzo Se Cun non ha paura. La prima settimana di Lario Book si chiuderà con il critico musicale Mario Luzzato-Fegiz. Un mese di incontri e dibattiti proposti in collaborazione con alcune delle maggiori case editrici nazionali, ecoscrittori, giornalisti, critici, economisti, ma anche grandi campioni, come il ciclista Damiano Cunego, che il 19 maggio, a pochi giorni della tappa comasca del Giro d'Italia, presenterà la sua prima autobiografia, scritta con Tiziano Marino, puro sangue. Tra i giornalisti, i protagonisti del festival, Matteo Collura e Francesco Cevasco, oltre a Tony Capuozzo, inviato di Mediaset. Il 30 maggio sarà invece l'occasione per fare un viaggio nel fumetto d'autore, con gli artisti Claudio Villa e Alessandro Piccinelli. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero sul sito www.lariobook.it e sulla pagina Facebook del festival. È possibile trovare tutte le informazioni sul programma degli eventi, curiosità sugli autori e sulle opere che presenteranno a Como.